Il 2018 dovrebbe essere l'anno della svolta per la messa in sicurezza del tratto di strada statale 113 tra patti d'acqua e dolci. È quanto emerso dalla presentazione del piano di salvaguardia e riqualificazione della 113, tenutasi all'auditorium comunale di Gioiosa Marea alla presenza, fra gli altri, del presidente dell'ANAS, Gianni Vittorio Armani, del presidente della regione, Rosario Crocetta, e del sindaco della cittadina tirrenica, Edoardo Spinella. In realtà, ad essere illustrate, sono state soltanto le finalità del piano stesso, mentre per la sua definizione concreta bisognerà aspettare appunto l'anno prossimo. L'obiettivo è completare le autorizzazioni necessarie per ottenere gli interventi, avendo definito le alternative, in un percorso che vedrà coinvolte tutte le istituzioni. Il piano ha lo scopo di analizzare e mitigare le aree a rischio ambientale e di potenziare gli standard di sicurezza, funzionalità e comfort con il contestuale contenimento dei tempi di esecuzione e del consumo di risorse ambientali ed economiche, puntando su funzionalità, valorizzazione e sostenibilità. ANAS ha garantito un finanziamento già esistente di circa un milione di euro. Intanto è stata avviata la prima fase di analisi con la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura e dell'assetto territoriale, alle quali seguiranno ulteriori indagini. Conclusa questa parte, si procederà con l'identificazione e la classificazione delle criticità, la definizione delle finalità di azione, lo sviluppo delle alternative, le analisi comparative delle soluzioni e infine la scelta degli scenari di intervento. I 47 chilometri della statale su cui è focalizzato il piano sono stati interessati negli anni da numerosi eventi franosi, tanto che dal 2008 ad oggi l'importante arteria viaria è rimasta chiusa al traffico per 1738 giorni, cioè più o meno il 60% del tempo totale. Finalmente, anche in questa struttura stessa, dove più volte si sono tenuti incontri per risolvere la criticità delle frane, oggi invece ci si incontra per la prima volta, grazie alla sensibilità sia del presidente dell'ANAS, e quindi della struttura dell'ANAS, ma anche della politica, perché in primis viene il presidente della regione, l'onorevole Crocetta, a rappresentare proprio quello che è l'interesse a questo punto per una criticità continua della strada statale 113. Quindi per noi è davvero qualcosa di eccezionale ed è il primo punto importante affinché si possa risolvere. certamente non sarà facile, non sarà imminente, ma è il punto più importante, un punto importante affinché si possa avere una soluzione davvero definitiva.